...rischi inutili. Sceglie di andare per via verticali. Si spara... Roberto Baggio! Palla in fondo alla rete! Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol! Qui è stato bravissimo. Una performance da Goliador. La palla sembrava incollata ai suoi piedi. Non riuscivano a levargliela.